bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie oggi parliamo di un caso molto famoso più che altro ad essere famosa è la persona di cui andremo a parlare ma prima di cominciare voglio ringraziare lo sponsor di oggi satis pay satis pay è l'app indipendente efficiente estremamente conveniente e sicura che si pone come missione quella di semplificare i pagamenti per migliorare la vita di tutti tra i tantissimi servizi che offre satis pay c'è anche quello di scambiare denaro con i contatti della tua rubrica istantaneamente gratuitamente puoi inviare denaro ai contatti che hanno già un account satis pay e anche a chi ancora non è un utente quindi amici diciamocelo non ci saranno più scuse per non dividere i conti alle cene o per raccogliere i soldi per i regali e perché no dato che siamo nel periodo delle giocate per raccogliere i soldi per la tombola di natale ma questi sono solo alcuni esempi in quanto le possibilità sono infinite gli scambi di denaro tra utenti avvengono tramite trasferimenti immediati di disponibilità su satis pay se il tuo contatto non è ancora utente riceverà un sms che lo avviserà del tuo invio e lo inviterà a scaricare l'app effettuato il download è completata la registrazione si vedrà accreditare la cifra sulla disponibilità satis pay vi lascio come sempre il link sotto nella descrizione del video e utilizzando il codice promo elisa true crime riceverete subito 5 euro in omaggio prego non c'è di che e ora torniamo alla storia di oggi vi avverto amici che sono un po malaticcia o un po di mal di gola quindi mi andrà via la voce sicuramente questo sarà un video lunghissimo infatti ho qui la mia tisanina che ogni tanto berrò quindi se perderò la voce non fateci caso oggi vi racconto la storia dell'attrice di hollywood britany murphy della sua vita dei suoi successi e purtroppo anche della sua misteriosissima morte che ancora oggi rimane qualcosa di inquietante e inspiegabile britany murphy nasce in realtà britany ann bertolotti il 10 novembre del 1977 dai genitori sharon murphy americana di origini irlandesi e angelo bertolotti di origini italiane che ve lo dico a fare il padre di britany angelo era cresciuto a new york ed è sempre stato in qualche modo coinvolto nella criminalità organizzata era un mafioso insomma e pare che questa sia una cosa risaputa pare che angelo bertolotti avesse delle solide connessioni con la famiglia gambino che è tipo una delle famiglie mafiose più famose di new york comunque bertolotti prima della nascita di britany era il proprietario di diversi strip club e infatti è proprio così che conosce quella che diventerà sua moglie nonché madre di britany sharon sharon faceva la spogliarellista in uno dei locali di angelo e da subito la donna è attratta da lui era un uomo importante ricco affascinante i due si sposano danno alla luce la loro figlia britany ma quel matrimonio non dura molto angelo faceva avanti e indietro dalla prigione come già detto era coinvolto in giri un po troppo loschi e se all'inizio sharon era attratta da quel tipo di vita dopo la nascita di britany cambia idea cioè quella vita non le sembrava più così intrigante come aveva pensato e così quando britany a soli due anni sharon e angelo divorziano angelo infatti finisce in prigione per circa nove anni per questioni di droga spaccio robe da mobster non lo so fatto sta che sharon nel 1980 prende britany e la porta via la porta a vivere con sé a edison nel new jersey ed è proprio lì che britany abbandona il cognome bertolotti e prende quello della madre diventando così britany murphy britany comincia a mostrare interesse per il mondo dello spettacolo fin da una giovanissima età infatti di solito nel mondo delle giovani star sono i genitori a spingere i loro figli fin da piccoli ad entrare nel mondo dello spettacolo forzandoli quasi prima ancora che loro siano in grado di dare il loro consenso o comunque che siano in grado di capire se si tratta di qualcosa che sono interessati a fare oppure no e quindi Ecco, in questo caso non si può dire lo stesso. Non è assolutamente stata Sharon a forzare Brittany a diventare una star, anzi, Brittany si può dire che sia nata una star, è nata per lavorare nel mondo dello spettacolo e ha sempre avuto le idee chiarissime. Sono 10 anni, dove c'è Hollywood? Broadway o Hollywood, prima che voglio andare a Broadway e poi ho Hollywood e poi voglio fare un po' di cose. Voleva intrattenere le persone, voleva lavorare in tv, voleva andare a Broadway ma alla fine voleva arrivare lassù, voleva diventare una star di Hollywood. Sharon, sua madre, a seconda ai sogni della figlia, infatti nel 1991 chiede a Brittany seriamente, Brittany questa cosa dello spettacolo è qualcosa che vuoi davvero fare? E lei le aveva risposto di sì. Allora Sharon, senza pensarci due volte, si licenzia dal lavoro che aveva trovato nel New Jersey e si trasferisce insieme a lei in California. E esattamente come Brittany si era preventivata, a 13 anni inizia ufficialmente a lavorare con un agente e inizia ad ottenere i suoi primi ruoli a Hollywood e a Broadway. Ottiene qualche parte in varie serie tv ma il suo primo ruolo davvero importante avviene nel 1995 nel film Clueless, che purtroppo qualche persona completamente fuori di testa ha deciso di tradurre in italiano come ragazze a Beverly Hills. Cioè, perché? Allora, Clueless è un film stupendo, è il mio comfort movie, quando non sto bene, quando ho bisogno di, non lo so, una coccola, una roba rassicurante, io guardo Clueless, l'avrò visto mille volte, se non l'avete mai visto guardatelo, è una commedia molto leggera, adolescenziale, appunto degli anni 90, è tipo Mean Girls ma un milione di volte meglio e chiunque dica che è brutto può tranquillamente disiscriversi. Comunque, in Clueless, Brittany interpretava Tai, un'adolescente giudicata bruttina, diciamo così, che per integrarsi in questa nuova scuola, in questo liceo prestigioso, lascia che le venga fatto un makeover, quindi da brutto anatroccolo si trasforma in un belcigno, vabbè, il classico film anni 90. Ma questa è un po' la vera storia della vita di Brittany Murphy, come vedremo più avanti nel video, ed è curioso come ogni ruolo che lei ha interpretato nella sua carriera, in qualche modo, rispecchiasse davvero la sua vita reale. E non si capisce se sia stata la sua persona ad influenzare i ruoli che interpretava o viceversa, se forse invece era Brittany a mettere così tanto di se stessa nei personaggi che interpretava, così tanto da farsi condizionare. Comunque, a questo punto Brittany è ancora una ragazzina, è minorenne, ma come tanti giovani attori di Hollywood, smette di andare a scuola, in realtà studia sul set con un tutor, e diventa un minore emancipato. Questo significa che praticamente, nonostante non abbia ancora compiuto la maggior età, è considerata agli occhi della legge un adulto a tutti gli effetti. E questo, da quello che ho capito, avviene più che altro perché i giovani attori lavorano, nonostante siano minorenni, quindi non potrebbero lavorare più di un tot di ore, essendo minori, o forse non potrebbero lavorare e basta. Invece, emancipandosi, possono lavorare e anche gestire o comunque accedere al loro patrimonio, secondo la legge, insomma, senza nessun problema. Brittany, quindi, è emancipata, ma questo non significa che si separi da sua mamma, assolutamente no. Lei e sua mamma Sharon sono legatissime, sono come due sorelle. Sharon è un estremo supporto a Brittany. Lei stessa ha sempre sostenuto che non avrebbe mai raggiunto il successo che ha ricevuto se non fosse stato per sua madre, che ha sempre creduto in lei. Comunque, come abbiamo detto, Clueless ribalta la carriera di Brittany, la rende davvero famosa, ma con la fama, oltre ai soldi, alle attenzioni, alla popolarità, arrivano anche tutti i lati negativi della cosa, che per lo più sono le critiche e le opinioni della gente. Non scordiamoci che ci troviamo negli anni 2000, e se eravate adolescenti negli anni 2000, come me, lo sapete. L'immagine della donna era vista in un modo completamente sbagliato e tossico. Gli standard di bellezza erano impossibili, e in realtà trovo che siano ancora oggi abbastanza impossibili, ma decisamente non come negli anni 2000. Pensate che negli anni 90, ma anche negli anni 2000, lo standard di bellezza di una donna era chiamato l'heroine chic, ovvero l'essere estremamente magre, meno forme avevi, meglio era. Se ti si vedevano le ossa, era ancora meglio. Se ci aggiungevi anche un po' di occhiaie, i tratti androgini, un po' alla Kate Moss, un po' come se facessi uso di heroina, e per questo si chiamava heroine chic. E tutte noi adolescenti in quegli anni sentivamo la pressione di dover essere sempre più magre, o almeno io la sentivo sfogliando le pagine di Vogue, Cosmopolitan, guardando tutte quelle donne giudicate perfette dalla società e lontanissime da come ero io. E se la sentivo io, quella pressione, dal mio bilocale nella periferia di Torino, figuriamoci quanto doveva sentirla Brittany Murphy, attrice emergente a Hollywood, che si trovava fisicamente immersa in un mare di bellissime e magrissime ragazze, tutte che sgomitavano per emergere esattamente come lei. Brittany racconta di aver letto tutti i commenti su di lei, tutti gli articoli, e quello che dicevano era che era grassa, che era brutta, era la bruttina di Hollywood, proprio come nel film Clueless. Racconta di aver letto un articolo in cui una persona abbastanza importante diceva di lei che fosse Huggable but not fuckable, ovvero una che ti veniva voglia di abbracciare ma non di portarti a letto. E quella frase la segna, ci si ritrova, si sente una persona che nessuno si sarebbe mai voluta portare a letto. E da lì Brittany Murphy decide di cambiare, decide di diventare quello che volevano gli altri. Brittany Murphy inizia a perdere peso drasticamente e si tinge anche i capelli di biondo platino. Il cambiamento è impressionante, sembra quasi un'altra persona. Da ragazza semplice e spontanea diventa letteralmente una bomba sexy. Cambia modo di vestire, cambia modo di atteggiarsi, persino i suoi amici più cari non la riconoscono più e si preoccupano, non tanto per la metamorfosi, si chiedono più che altro quanto questa metamorfosi l'abbia voluta lei e quanto invece non si sia sentita costretta a cambiare. Purtroppo Brittany confermerà le loro preoccupazioni perché dirà proprio di essere cambiata per poter sfondare, per poter avere successo. Dirà che le era stato detto più volte che la bruttina e grassa di turno non avrebbe mai ottenuto una parte importante nei film. Se voleva essere una star, un'attrice stimata, doveva cambiare, doveva perdere peso e così ha fatto. E purtroppo amici, aveva ragione, cioè nell'industria malata e tossica e sbagliata di quegli anni questo ragionamento ha funzionato. Brittany Murphy aveva un enorme talento ma ce l'aveva anche prima di perdere peso. Eppure col suo nuovo look inizia ad ottenere parti in film importanti come Eight Mile, Sin City o Ragazze Interrotte, che è un film spettacolare. Anche la sua vita amorosa ha una botta di vita perché esce per un periodo con Eminem che era la sua co-star in Eight Mile e poi a seguito di un film insieme si fidanza anche con Ashton Kutcher per un periodo. Si fidanza anche ufficialmente con un attore di nome Joe Macaluso, i due però si lasciano prima di sposarsi. Queste relazioni non durano mai più di qualche mese ma chiunque conoscesse Brittany sapeva che il suo vero desiderio era di sistemarsi. Da sempre Brittany sognava di sposarsi e mettere su famiglia, sognava un matrimonio felice e dei bambini. Nonostante a questo punto Brittany sia un'attrice di Hollywood affermata e acclamata è come se non riuscisse mai ad ottenere quello che desiderava fino in fondo. Cioè sì, era un'attrice famosa con un talento straordinario, chiunque la vedesse recitare rimaneva senza parole. Eppure non riusciva mai ad essere davvero ricordata per un suo film. Cioè, per esempio, la sua interpretazione in Ragazze interrotte è pazzesca. Eppure, se uno pensa a quel film, pensa a Winona Ryder o ad Angelina Jolie che ha anche vinto l'Oscar per quel ruolo. Anche se pensiamo allo stesso Clueless, comunque la protagonista era Alicia Silverson. In Eight Mile pensiamo a Eminem. Cioè, Brittany ha sempre avuto dei ruoli importanti ma secondari. E col tempo che passava e le critiche che si facevano sempre più aspre, Brittany inizia a perdere fiducia in se stessa, a perdere autostima. Anche perché prima la criticavano perché secondo la gente era brutta e grassa. Dove poi? Vabbè. Ora la criticavano perché non era più grassa. No, ora era troppo magra, quindi doveva per forza soffrire di un disturbo alimentare o anzi forse era dipendente da sostanze, sì, era una tossica. Ecco, queste erano tutte le cose carine che i tabloid avevano da dire su di lei. Lei chiaramente patisce queste critiche perché, anche se per qualcuno può sembrare assurdo, dietro a un'attrice di Hollywood c'è sempre un essere umano con dei sentimenti che possono essere feriti esattamente come i nostri. E in più Brittany vede la sua carriera un po' in declino. Ed è proprio a questo punto della sua vita che incontra una persona. Una persona che cambierà drasticamente la sua vita per sempre. ovvero Simon Monjack. Simon Andrew Monjack nasce il 9 marzo del 1970 in Inghilterra. A 16 anni Simon perde tragicamente il padre che muore per un tumore al cervello. E questa perdita lo scuote particolarmente. Sua madre dice che Simon passerà il resto della sua vita ad aver paura di avere a sua volta un tumore. All'età di 16 anni Simon sviluppa un interesse per la recitazione e la regia. E infatti diventa proprio uno sceneggiatore e un regista. Ed è proprio in questo modo che incontra Brittany. Simon e Brittany si incontrano ad una riunione di lavoro nel 2006. E da quel momento in poi i due sono inseparabili. I due iniziano una relazione, stanno insieme per un anno e nel maggio del 2007 si sposano. Ora, chiaramente la gente, le riviste, i paparazzi, tutti non aspettano altro che uno scoop, un gossip, qualcosa di cui sparlare, qualcuno da giudicare. E quando il mondo ha visto l'uomo al fianco di Brittany Murphy, l'uomo che Brittany Murphy aveva sposato, oh se ne ha trovato uno. Brittany Murphy era questa stupenda, bellissima creatura. Aveva avuto relazioni con Eminem, con Ashton Kutcher, tutti uomini molto belli. E adesso invece si era sposata con questo Simon. Simon, amici, non era esattamente Ashton Kutcher. Simon era un omone grande e grosso, sempre un po' trasandato, che stava perdendo i capelli. Ed è quasi matematico che la Hollywood superficiale dei tempi abbia iniziato a dire, ma che cavolo ci trova Brittany in questa persona qua? Tutti hanno iniziato a speculare e a fare teorie secondo la quale doveva per forza esserci qualche ragione oscura per cui Brittany aveva sposato quell'uomo. Cioè non poteva essere amore, c'era qualcosa che non tornava. Lei era troppo bella per lui. Comunque vabbè, per il momento tralasciamo la superficialità dei tabloid e andiamo avanti. Dunque, dopo essersi sposato con Brittany Murphy, lui, Simon, insieme a Brittany e a sua madre Sharon, che la segue ovunque, vanno a vivere in una casa a Beverly Hills, dal valore di più di 4 milioni di dollari. Che tra l'altro era la casa in cui aveva vissuto Brittany Spears, quindi una casa carina dai, discreta. Quindi vivono loro tre insieme, Simon, Brittany e sua madre Sharon. E tutte le persone vicine a Brittany iniziano a vedere una trasformazione. Da quando si erano sposati, lei e Simon non uscivano più di casa e neanche Sharon. Vivevano come segregati in casa e Brittany e Sharon sembravano come ipnotizzate da quell'uomo. Brittany e Simon facevano appunto tutto insieme, sul set erano insieme e ai pochi eventi in cui Brittany presenziava, i due sembravano sempre guardarsi con gli occhi pieni di amore. Anche se Brittany era sempre più magra e le voci secondo cui lei faceva uso di sostanze o soffrisse di disordini alimentari, non accennavano a smettere, anzi. Il tempo passa e la carriera di Brittany sembrava essere più in declino, nel senso che da film come Ragazze interrotte, Eight Mile, eccetera, aveva iniziato a recitare solo più in film di serie B. Ma, amici, qualcosa di tragico accade il 20 dicembre del 2009. Alle 8 circa del mattino arriva una telefonata al 911 da parte di una donna in preda al panico. La donna al telefono era Sharon Murphy e urlava chiedendo aiuto perché aveva trovato sua figlia, l'attrice Brittany Murphy, sdraiata sul pavimento del bagno, incosciente. L'operatore del 911 le fa delle domande e le dà istruzioni su come farle il massaggio cardiaco. Vicino a lei c'è Simon, si può sentire la sua voce e infatti è proprio lui a tentare di rianimare Brittany. Ma purtroppo non c'è nulla da fare. Sharon lo dice al telefono. Brittany non si muove e non respira. Grazie a tutti. Can you feel or hear any breathing? Can you feel or hear any breathing? Can you feel or hear any breathing? Yes or no, ma'am? Hello? 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 Just a minute, please. It just takes a minute, a second. Can you feel or hear any breathing? Can you feel or hear any breathing? Yes or no? Yes or no? No! Okay, all right, listen to me carefully. I'm going to tell you how to do compressions, okay? Brittany, please come back! Ma'am? Ma'am? What? Is he still pumping on her chest? Yes. Okay, he needs to continue, okay? He is. Did anybody see what happened? Oh, my God, don't worry. Ma'am? Ma'am? Did anybody see what happened? He was dizzy. He couldn't walk right. He said it cold. Oh, my God. Is she taking any kind of medications at all? What? Is she taking no medications, nothing? Now, listen carefully, okay? Bump the chest hard and fast at least twice per second. Just keep doing compressions. I can count with you, okay? I want to hear. It's got to be at this rate, like one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Keep going at that rate. Eight, nine. It's too slow. It's too slow. It's too slow. It's too slow. Okay, he's still like four, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Che rilevano un battito lievissimo. Anche se le condizioni di Brittany erano davvero critiche. Fanno di tutto per tenerla in vita almeno fino all'arrivo in ospedale, ma non ci riescono. E alle 10 e 05 Brittany Murphy viene dichiarata morta. Sharon perde così la sua unica figlia. Come potrete ben immaginare, appena viene fuori la notizia della morte di Brittany Murphy, ancora prima che la cosa venisse resa pubblica, i media si scatenano. Ai giornalisti viene imposto di appostarsi davanti casa dell'attrice 24 ore al giorno. Dovevano capire cosa fosse successo. Dovevano portare a casa lo scoop. Brittany aveva solo 32 anni al momento della sua morte. Che cosa poteva esserle successo? Hollywood, ma tutto il mondo in realtà, era sconvolto nell'apprendere quella notizia. La polizia nel frattempo inizia subito ad indagare. Ed Winter, assistente del medico legale capo della contea di Los Angeles, insieme ad altri agenti, si recano a casa sua, a casa di Brittany. Dovevano capire se si trattasse di un incidente o di reato, se ci fosse qualche indizio o qualche segno sul corpo. Ma non trovano niente di tutto ciò. Ed Winter dichiara pubblicamente che avrebbero quindi fatto un'autopsia sul corpo di Brittany. E solo due ore dopo il suo decesso interrogano suo marito Simon. Simon racconta che Brittany aveva iniziato a star male qualche giorno prima, mentre i due erano di ritorno da Puerto Rico, in cui lei avrebbe dovuto girare il film The Collar. Erano tornati in anticipo però, perché le cose sul set non erano andate bene, e Brittany era stata rimpiazzata da un'altra attrice. Brittany appunto aveva iniziato a stare male sulla via del ritorno, ma non aveva nulla di grave, spiega Simon. Cioè, semplicemente le era venuta un po' di influenza, aveva un po' di raffreddore, un po' di tosse, ma niente di che. Era impossibile però per Ed Winter e per gli agenti presenti non notare quanto strano fosse Simon durante l'interrogatorio. Sembrava prima di tutto sotto l'effetto di qualcosa, perché non riusciva a stare fermo, continuava a muoversi, a tremare, faceva avanti e indietro per la stanza, ma poi un minuto dopo sembrava indifferente. Poi il minuto dopo ancora andava di nuovo in crisi, sembrava molto confuso. E da un lato però mi viene da dire stica, cioè timore tua moglie davanti, tra le tue braccia, improvvisamente senza motivo, cioè io non lo trovo così strano che il suo modo di parlare o di muoversi fosse non proprio lineare. Ma la cosa davvero strana è quello che dice dopo. Simon non era per niente d'accordo con il piano d'azione di Ed Winter, cioè non voleva assolutamente che venisse fatta l'autopsia sul corpo di Brittany. Questo è un po' strano. Ed Winter gli spiega che l'avrebbero fatta comunque, cioè è normale fare l'autopsia in caso di morte così misteriosa e sospetta, a meno che non ci sia un divieto da parte del tribunale o a meno che non ci siano dei motivi religiosi particolari. Ed Winter insieme agli altri agenti successivamente perquisiscono la casa. Trovano una cosa come 90 confezioni di medicinali prescritti a Simon e a Brittany, tutti sul comodino di Brittany. Questi farmaci erano farmaci piuttosto pesanti, erano ansiolitici, antidepressivi, antipsicotici e anche diversi antidolorifici di quelli che creano facilmente dipendenza. Le confezioni di medicinali erano talmente tante che l'ufficio del medico legale chiede un mandato per diverse farmacie. Una di queste si chiamava Eddie's Pharmacy e si trovava a West Hollywood e il proprietario riferisce alle autorità che nei due anni precedenti alla morte di Brittany aveva ritirato più di 100 ricette da Simon. Ma non erano tutte a suo nome, nel senso che a quanto pare, da quello che ho letto, questa è una cosa che in America fanno in molti, più che altro quelli che hanno un problema di dipendenza da farmaci, ovvero creano degli alias, cioè dei nomi falsi, così che possono avere più prescrizioni e più ricette e così da avere più farmaci. Ovviamente è una cosa illegale, però scoprono che Brittany e Simon lo facevano abitualmente, quindi quello unito all'enorme quantità di farmaci trovati in casa loro, beh, era chiaro che Brittany o entrambi avessero un problema di dipendenza. Ma quando i risultati dell'autopsia vengono fuori, l'esito è sconcertante. La causa della morte di Brittany Murphy era stata una brutta polmonite. Sono anche stati trovati nel suo organismo 14 tipi di farmaci diversi ed è stata anche trovata una carenza di ferro molto importante, quindi Brittany al momento della sua morte era estremamente anemica. E queste cose, i farmaci più l'anemia, secondo l'autopsia, hanno contribuito alla sua morte, ma non ne sono stati la causa. La causa è stata la polmonite. Ora, che una ragazza di 32 anni in salute e con la possibilità economica di Brittany Murphy sia morta di polmonite è davvero strano. Cioè, non stiamo parlando di una persona, non so, anziana, sola, che non è potuta andare dal dottore o che viveva al freddo, non lo so, nella casa dei Turpin. Cioè, stiamo parlando di Brittany Murphy. Se era così tanto malata, perché nessuno l'ha portata da un dottore? Tutti i medici, compresi i medici che hanno effettuato l'autopsia, hanno dichiarato che se solo fosse andata da un dottore qualche giorno prima, o anche il giorno stesso e avesse cominciato un trattamento, non sarebbe morta. Quindi, cosa è successo? Da qui comincia una vera e propria gogna mediatica contro Simon, che era con lei 24 ore su 24 e che quindi viene visto come il responsabile della sua morte. Per rispondere a queste accuse, per cercare di difendersi, allora decide di comparire ad un'intervista sulla TV nazionale, al programma di Larry King, insieme a Sharon, la madre di Brittany. E questa intervista, amici, fa male, cioè fa male agli occhi, fa male al cuore. Se si potesse riassumere il cringe in un'immagine, sarebbero Simon e Sharon insieme a questo programma. Cioè, davvero so che il loro intento era di pulire il loro nome, come si dice in italiano, riabilitare il loro nome. Ecco, il loro intento era quello, ma questa intervista ha l'effetto esattamente opposto. Prima di tutto, Sharon, la madre di Brittany, sembra completamente fuori di sé, nel senso che sembra sotto l'effetto di qualcosa, è proprio assente, confusa, un po' sbiascica, fa davvero male guardarla. e la cosa che è impossibile non notare è il modo in cui lui controlli la conversazione. Cioè, non la fa parlare, la interrompe, come se avesse paura di quello che potrebbe dire, e il più delle volte comunque la corregge, in un modo che a me, come a molti, è sembrato molto manipolatorio. Ma parliamo meglio di questa intervista, e ovviamente, come sempre, vi inserirò dei clip. Dunque, in questa intervista a Larry King, viene chiesto a Simon cosa fosse successo quel giorno. E lui risponde che quel giorno Brittany faceva fatica a respirare. Dice proprio she was fighting for air. Cioè, lottava per respirare, nel senso che faceva difficoltà. Dice anche che i suoi occhi, c'era qualcosa che non andava nei suoi occhi, perché andavano a destra e a sinistra, così. E poi aggiunge, per la cronaca, mia moglie Brittany non ha preso nessun farmaco che potesse farle del male quella mattina. Brittany aveva paura di prendere, e poi però viene interrotto dalla madre, ma sembra che stia dicendo, tipo Brittany aveva paura di prendere un'aspirina, figuriamoci se prendeva farmaci pesanti. Sua madre aggiunge che Brittany soffrisse di un problema al cuore. aveva un soffio al cuore, che aveva però sempre avuto, non era nulla di grave, ma per questo motivo non poteva prendere farmaci. We're back with Simon Monjack, Brittany Murphy's husband, and her mother Sharon. All right, back to that day. So I asked Sharon to come down, Sharon came down. Brittany, for the first time, was almost fighting for air. Her eyes were not right. they were darting off left, right and center. Let me explain for the record, a declarative statement. My wife had not taken any drugs that could harm her that morning. No drug overdose, sir. Oh, please. Brittany was scared to take a... She had a heartburn. She had a much of our prolapse. So she couldn't take it. Ma quindi, come pensano di spiegare i 14 tipi di farmaci diversi nel suo organismo? Uno dei farmaci, tra l'altro, era il Topamax, il Topiramato, che sarebbe un farmaco molto pesante, che serve a curare le crisi epilettiche. E se vi ricordate, ne abbiamo parlato anche nel video di Kenneka Jenkins, e vi ricordate quanto fosse disorientata Kenneka in quel video? Ecco, per molti lo stato confusionale in cui era Kenneka era proprio da imputare alla presenza di Topiramato nel suo sangue. E, per la cronaca, Brittany non soffriva di epilessia, non ne aveva mai sofferto secondo i suoi reperti medici. Comunque, proseguiamo con l'intervista. Simon continua a raccontare. Quindi, appunto, quel giorno Brittany faceva fatica a respirare, quindi era uscita fuori di casa per provare a prendere un po' d'aria. Sharon l'aveva seguita fuori e poi dice dirò io questa cosa perché so che Sharon non ci riesce, nel senso che le fa troppo male. Brittany le ha detto mamma, sto morendo, ti voglio bene. E Larry King in quel momento lo guarda e dice scusa cosa? Cioè, Brittany sapeva di stare per morire? e la madre risponde piangendo sì, questo però è successo un'ora prima, ma... e Simon subito la interrompe, la zittisce, dicendole no, no tesoro, tu non ti ricordi, tu hai dimenticato gli orari. E poi continua a raccontare, ok? Quindi subito dopo questa cosa, Brittany corre in bagno e Simon aggiunge il bagno era il paradiso di Brittany, quindi io ero felice che fosse corsa in bagno. Questo significava che si stava rimettendo a posto, sai, leggendo Vogue e mettendosi il rossetto. And then she ran to the bathroom. Brittany had, Brittany's safe haven was the bathroom. So I was the most pleased she was in the bathroom. That meant she was pulling herself together, you know, reading Vogue and putting on lipstick. and that was Brittany. Scusa? Cosa? Cioè, secondo il suo racconto, Brittany faceva fatica a respirare, aveva detto a sua madre sto morendo, ti voglio bene, era corsa improvvisamente in bagno e tu sei felice perché pensi che stia andando a leggere Vogue e a mettersi un rossetto. In che senso? E poi dice che a quel punto, una volta che Brittany appunto era corsa in bagno, Sharon aveva urlato chiamandolo, lui era corso in bagno e aveva trovato Brittany per terra incosciente. E subito dopo, sorridendo, si vanta anche con Larry King di aver guardato un programma proprio la settimana prima in cui spiegavano come fare il massaggio cardiaco e che quindi lui sapeva come farlo perché appunto aveva guardato questo programma e per questo l'aveva fatto, no? Che eroe! che poi abbiamo sentito tutti dalla chiamata al 911 che il massaggio cardiaco lo stavi facendo male Simon perché andavi troppo lento quindi anche meno. Ma il cringe amici non finisce qui. Credo che la parte peggiore di questa intervista sia quando Larry King gli chiede perché all'inizio Simon non voleva che venisse fatta l'autopsia. Gli chiede se fosse per motivi religiosi e al che lui risponde no no non era per quello potrei dare la colpa alla religione sarebbe la cosa più facile da fare ma sai c'era questa donna Sharon che aveva appena perso una figlia per noi è stato un grande shock questo corpo così puro con le curve tutte al posto giusto la pelle come la seta come facevo a dire di fronte a sua madre sì fatela a pezzi che follia è mai questa dice queste parole amici sentite con le vostre orecchie perché un conto è sentirlo da me e un conto è vederlo e sentirlo voi you didn't want an autopsy at first no you were a religious orthodox Jew I was orthodox Jews don't want autopsies right it wasn't that I mean I could blame the religion for the easiest thing to do there was this woman who just lost her daughter who to us it was such a shock this pristine body that was curvy in all the right places and the skin like silk and how could I say in front of her mother cut her up ma oltre questa intervista che altro non si può definire se non allucinante Simon e Sharon hanno anche deciso di farsi fare un servizio fotografico per le riviste in cui in teoria stavano piangendo Brittany cioè erano in lutto ma guardate queste foto amici vi sembrano un marito e una madre in lutto cioè secondo me no nel senso a me sembrano due genitori addolorati uniti più che mai dal dolore della perdita della loro figlia ma non è tutto un'altra cosa sconcertante che Simon fa dopo la morte di Brittany circa due mesi dopo a febbraio è contattare una giornalista di nome Amber Ryland lei era una dei tanti giornalisti che passavano le giornate appostati davanti casa sua per ottenere uno scoop e Simon le aveva detto sappi che tu sei l'unica che ho chiamato voglio farti entrare in casa voglio farti fare un tour della casa Amber ovviamente aveva accettato l'invito anche se le era sembrato strano e non ne ha mai capito il senso ma ovviamente da giornalista non le importava cioè le importava solo di portare uno scoop esclusivo al suo capo e nessuno era entrato in quella casa dopo la morte di Brittany Amber racconta che quando lo ha incontrato non ha potuto fare a meno di notare quanto Simon parlasse solo di se stesso anche quando parlava di Brittany si prendeva tutto il merito del suo successo le diceva tipo guarda che bella che era Brittany in quel film le ho detto io di indossare quel vestito oppure le ho detto io di dire quella battuta quando Amber entra dentro casa di Simon oddio dentro casa di Brittany Murphy in cui ora viveva Simon e la mamma di Brittany Sharon racconta di essere rimasta un po' di stucco perché la casa era un disastro era sporca c'era roba ovunque e una volta andati nella camera da letto Simon la fa entrare nel bagno in cui Brittany era stata trovata Simon le dice che dalla sua morte nessuno era andato a pulirlo lui non lo aveva mai più usato e tutto era rimasto così come lei lo aveva lasciato noone e poi in casa c'era anche Sharon e anche Amber la giornalista nota quanto Sharon fosse sottomessa a Simon aveva proprio un atteggiamento remissivo con lui e poi nota qualcosa di strano che attira la sua attenzione nota che il letto era sfatto come se qualcuno si fosse appena alzato ma era sfatto da tutti e due i lati come se ci avessero dormito due persone e allora senza peli sulla lingua lo chiede a Simon gli chiede scusa ma tu e Sharon dormite nello stesso letto e lui aveva risposto ah sì ogni tanto lei si infila nel mio letto e insieme piangiamo comunque questo tour della casa come tutto il resto viene visto dalla gente come l'ennesimo gesto bizzarro e di cattivo gusto da parte di Simon e se già alla gente Simon non piaceva prima figuriamoci adesso infatti i media iniziano a diciamo indagare su di lui a scavare nella sua vita e nella sua relazione con Brittany e le cose iniziano a venire fuori la gente aveva iniziato a sospettare che Simon fosse una sorta di truffatore un uomo che in qualche modo riusciva ad ammaliare le persone le donne più che altro per trarne vantaggio lo aveva fatto con Brittany e ora lo stava facendo anche con sua madre Sharon iniziano a farsi avanti svariate persone che avevano conosciuto Simon o che ci avevano avuto a che fare in passato e quello che emerge è piuttosto inquietante ed è uno schema che abbiamo visto in tanti altri video lo schema del truffatore del manipolatore del mitomane del bugiardo patologico Simon si presentava come un genio uno sceneggiatore di film indipendenti inglese perché lui era inglese diceva inoltre di essere il più grande collezionista al mondo di quadri di Vermeer il pittore della ragazza con l'orecchino di perla per intenderci diceva anche di essere stato con elme person e con madonna diceva di collezionare ferrari e di averne 17 in tutto diceva ovviamente di essere un miliardario e soprattutto diceva di essersi comprato una cura sperimentale per il cancro di cui soffriva cioè lui diceva di aver avuto un tumore terminale al cervello che se vi ricordate questa cosa è proprio come suo padre e di aver comprato questa cura sperimentale che veniva estratta dalle pinne di squalo e che questo gli aveva salvato la vita quindi questo uomo aveva persino battuto il cancro terminale inutile dire che tutte queste cose che lui andava dicendo di se stesso erano delle grosse e grasse bugie tutte non era vero niente viene anche fuori che simon guarda caso aveva il visto che stava per scadere proprio a ridosso del suo matrimonio con britany murphy e non so se lo sapete ma ottenere la green card ovvero il visto da cittadino americano insomma per poter vivere lì è molto difficile lo si può ottenere però sposando un cittadino americano quindi la gente inizia a dire aspetta un attimo forse qui abbiamo davvero un abile truffatore che in qualche modo ha adescato britany la sedotta per usarla per avere la green card e magari per appropriarsi di tutti i suoi soldi o chissà cos'altro vengono fuori anche altri aneddoti inquietanti le persone che erano vicine a lei a britany raccontano di averla vista sempre più fragile sempre più instabile britany da quando stava con simon si era isolata sempre di più nella sua vita ormai c'erano solo più lei sua madre e simon non vedeva più nessuno al di fuori di simon tanto che i suoi amici da un certo punto in poi raccontano di non essere più riusciti neanche a contattarla direttamente britany si era sbarazzata del suo cellulare non aveva più un telefono e chiunque volesse parlare con lei doveva passare prima da simon si fa avanti anche un personal trainer che racconta di aver conosciuto simon in passato prima che si mettesse con britany perché un giorno era andato da lui nella sua palestra insieme alla sua fidanzata del tempo una ragazza molto bella con un anello di diamanti enorme al dito e perché a quanto pare si erano fidanzati ufficialmente solo il giorno prima simon aveva detto a questo personal trainer di volersi allenare con lui e i due avevano iniziato una serie di sessioni ma simon dopo un po' aveva iniziato a non pagare più di conseguenza il personal trainer gli aveva impedito di prenotare altri allenamenti ma dopo un po' simon lo aveva richiamato e gli aveva detto sai ora sto con britany murphy quindi posso tornare ad allenarmi con te posso pagarti tutto quello che ti devo anzi vorrei che anche lei si allenasse con noi il personal trainer racconta che i due simon e britany si erano presentati in palestra dopo qualche giorno e lei era palesemente sotto l'effetto di qualcosa perché sbiascicava non si reggeva in piedi era proprio in uno stato confusionale e comunque simon gli aveva detto guarda britany ha un ruolo molto importante a breve quindi voglio che l'alleni così da prepararla per quel ruolo allora il giorno seguente il personal trainer aveva contattato il team di britany murphy perché ovviamente gli attori di hollywood hanno un agente un manager un publicist insomma un intero team e la persona che risponde al telefono comunica al personal trainer che simon aveva licenziato tutto il team di britany murphy adesso lavorava lui e soltanto lui insieme a lei simon le faceva da agente da manager da parrucchiere da stylist da avvocato britany non aveva più nessuno intorno a lei che non fosse simon simon aveva costruito un muro intorno a britany attraverso un meccanismo che mi sembra quasi settario cioè mi ricorda quello che fanno le sette con gli adepti o con le persone che adescano cioè l'aveva isolata da tutte le persone che le volevano bene e che potenzialmente avrebbero potuto parlarle farle aprire gli occhi ha fatto in modo che lei si fidasse solo di lui ha fatto in modo che lei dipendesse da lui economicamente lavorativamente e fisicamente economicamente perché ovviamente amici era simon a gestire tutto il suo patrimonio dopo essere diventato il suo manager il suo avvocato bla 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 faceva investimenti comprava proprietà comunque gestiva lui i suoi soldi lavorativamente perché simon aveva preso il controllo totale anche di quella sfera lì decideva gli ingaggi che britany poteva o non poteva accettare era sempre con lei sul set decideva lui se una scena si poteva girare oppure no e a conferma di questa cosa si fa avanti un regista del penultimo film che britany aveva girato quel film prevedeva una scena un po intima cioè britany e l'altro attore dovevano abbracciarsi e baciarsi insomma niente di che ma britany all'improvviso si era rifiutata aveva detto al regista che non avrebbe mai più girato scene in cui baciare o comunque toccare un altro uomo perché la relazione con simon era quasi mistica era quasi magica ha proprio usato queste parole e quindi non voleva rischiare di intaccarla o comunque di rovinarla facendolo ingelosire o toccando un altro uomo il regista in questione racconta che ad un certo punto era andato da simon direttamente e gli aveva detto guarda amico se britany continua così mi dispiace ma dobbiamo sostituirla cioè io devo girare questo film al che simon era andato nel panico non aveva nessuna intenzione di perdere i soldi che avrebbe portato quel film e quindi gli aveva detto non preoccuparti parlo io britany e dopo vedrai che farà tutto quello che vuoi tu e così è stato amici così il film è stato terminato e questa però non è stata l'unica volta in cui simon aveva interferito nel lavoro di britany l'ultimo set su cui britany aveva lavorato quello a puerto rico proprio poco prima che si ammalasse vi ricordate che simon aveva detto all'investigatore che poco prima della sua morte si trovavano a puerto rico per un film ma che le cose sul set erano andate un po male ed erano dovuti tornare prima ecco le cose erano andate male perché avevano proprio licenziato britany e l'avevano licenziata per colpa di simon perché pare che lui abbia alzato le mani a qualcuno sul set ora io non ho trovato specifiche a riguardo ma non mi risulta difficile immaginare che magari qualcuno non gli abbia concesso di prendere proprio il controllo su tutto e che lui magari si sia scaldato e abbia reagito male che poi amici questo è il motivo per cui britany aveva iniziato a non lavorare tanto la sua carriera era un po in declino aveva iniziato a lavorare solo per film di serie b non è che i registi non la volessero per i film importanti o non la reputassero capace anzi ma lavorare con lei significava lavorare con simon e nessuno voleva averci niente a che fare e prima ho detto che simon la controllava anche fisicamente e questo perché secondo qualcuno simon controllava anche il suo peso e a dire questa è una donna di nome elizabeth rugsdale che si fa avanti e fa le rivelazioni più scioccanti elizabeth era un'ex fidanzata di simon erano stati insieme a parigi nel 1998 simon l'aveva corteggiata l'aveva sedotta le aveva fatto una proposta di matrimonio da film che lei aveva accettato felicemente ma elizabeth racconta che presto avevano iniziato a comparire le prime crepe nella facciata di simon racconta di un episodio in particolare in cui simon aveva provato ad avere un rapporto con lei insomma voleva fare l'amore con lei ma lei non ne aveva voglia insomma non aveva voluto aveva mal di testa non si sa a quel punto simon le aveva confessato in lacrime di avere un cancro alla colonna vertebrale un cancro per cui ovviamente rischiava la vita e per questo avrebbe dovuto sottoporsi a delle cure sperimentali a monaco cure estrapolate da pinne di squalo niente sta cosa delle pinne di squalo gli piaceva troppo cioè il cancro cambiava si spostava ma la cura era sempre quella in quel momento elizabeth chiaramente si era dispiaciuta moltissimo per la cosa e aveva ceduto alle sue suppliche e aveva fatto l'amore con lui capendo solo dopo che era stato tutto un modo contorto per ottenere quello che voleva elizabeth racconta poi che nel settembre del 1998 i due erano andati insieme a monaco presumo per le fantomatiche cure a cui simon doveva sottoporsi e lui le aveva detto che dovevano assolutamente fare un figlio cioè lei dice che lei doveva rimanere incinta subito perché quelle cure di pinne di squalo lo avrebbero reso sterile elizabeth lo accontenta anche in questo rimane incinta ma la gravidanza purtroppo non è per nulla semplice elizabeth sta molto male ma simon si rifiutava di portarla da un dottore per fortuna era intervenuta un'amica di elizabeth e questa amica aveva affrontato simon dicendogli che se non l'avesse portata da un dottore lui l'avrebbe fatto lei elizabeth è convinta ancora oggi che quell'amica le abbia salvato la vita è convinta che altrimenti sarebbe finita anche lei come britney comunque successivamente simon aveva detto a elizabeth di volere che il loro figlio nascesse su suolo americano quindi decide di tornare a new york lui prima di lei ma una volta lì sparisce completamente elizabeth era ancora a monaco incinta e quando ha provato a chiamare simon lui le ha riattaccato il telefono in faccia e da quel momento amici elizabeth non ha mai più avuto sue notizie anzi mai più non proprio perché simon l'ha ricontattata nel 2007 una volta sposato con tani marfi perché era terrorizzato dall'idea che la donna potesse parlare alla stampa e raccontare la sua vera natura allora l'aveva ricontattata per minacciarla le aveva detto che se avesse parlato lui avrebbe fatto di tutto per farle togliere il figlio elijah che alla fine era nato nel 2003 simon le ha comprato una casa e in questo modo si è comprato il suo silenzio elizabeth racconta che simon era davvero un abile truffatore capace di far credere alle persone qualsiasi cosa volesse aveva un carisma magnetico e non si sorprende del fatto che persino britany marfi sia caduta nella sua trappola racconta anche che quando aveva visto britany dimagrire così tanto ancora di più di quanto non fosse già dimagrita aveva subito capito che ci fosse simon dietro a lui infatti piacevano da morire le donne anoressiche e con elizabeth più volte le aveva fatto pressione criticando il suo aspetto estetico per proprio spingerla a dimagrire simon aveva un figlio illegittimo di cui nessuno neanche britany sapeva nulla ma la cosa assurda amici è che non aveva solo un figlio segreto ne aveva due uno era in francia appunto elijah con la madre elizabeth e l'altra una femmina era in inghilterra e come se tutto ciò non fosse abbastanza surreale esattamente cinque mesi dopo la morte di britany marfi un'altra morte lascia hollywood a bocca aperta ovvero proprio quella di suo marito simon monjack il 23 maggio del 2010 sembra di vivere in un deja vu perché arriva un'altra chiamata al 911 dalla stessa casa di beverly hills e dalla stessa sharon che urla chiedendo aiuto perché aveva trovato simon nel suo letto incosciente che non respirava sharon aveva provato a fargli il massaggio cardiaco ma senza nessun successo dopo pochi minuti erano arrivati i soccorsi che anche questa volta non hanno potuto fare nulla e alle 21 e 45 simon monjack è stato dichiarato morto anche questo caso viene preso in carico da ed winter lo stesso agente che aveva indagato sulla morte di britany che perquisisce la casa e trova di nuovo svariate boccette di farmaci prescritte a simon e ai vari nomi falsi che usava sharon continuava a ripetere che simon era morto di crepa cuore perché aveva sofferto troppo per la morte di britany ma la verità amici è molto più inquietante di così perché il 22 luglio del 2010 il medico legale rilascia l'esito dell'autopsia di simon e volete sapere qual era la causa della sua morte polmonite e una grave anemia cioè amici scusate ma questa o è la più grande coincidenza del mondo o non lo so la più semplice ed efficace definizione di karma a questo punto è rimasta solo più sharon devastata perché immaginate per tutta la vita erano state solo lei e britany poi britany era morta e lei era diventata praticamente un appendice di simon e ora anche simon era morto tutti e due tra l'altro davanti a lei quindi non credo che sharon se la stesse passando bene anche perché simon era in possesso e in controllo di tutti i soldi di britany e ora che lui non c'era più immagino che sharon avesse bisogno di soldi quanto sta che cinque giorni dopo la morte di simon sharon chiama il suo publicist il suo addetto alle relazioni stampa un uomo di nome roger neal e gli aveva chiesto di appunto andare a casa sua una volta lì sharon aveva tirato fuori tutti questi gioielli tutte queste collane di diamanti anelli tiare che erano cose che simon aveva regalato a britany sharon chiede a roger se poteva aiutarla a vendere quei gioielli così da ricavare un po di soldi roger rappresentava due gioiellerie su rodeo drive e quindi prende tutta quella roba lì e la porta prima da un gioielliere e poi dall'altro e tutti e due i gioiellieri lo guardano e gli dicono amico tutte queste cose sono false non valgono niente quando roger torna da sharon e le riferisce la cosa lei non sapeva neanche cosa dire ha risposto solo a suppongo allora che non esistano neanche tutte le proprietà che simon diceva di aver acquistato i titoli in borsa le case suppongo che non sia vero niente scoprono infatti che simon aveva preso il patrimonio di britany che era di più di 3 milioni di dollari e lo aveva fatto fuori in tre anni comunque dopo le morti estremamente strane di britany e di simon e entrambi morti di grave polmonite viene formulata una teoria la teoria della muffa che sicuramente avrete già sentito credo il sito di gossip tmz dichiara che il dipartimento della salute pubblica di los angeles stava indagando in quella direzione il tema muffa in realtà era già emerso a seguito della morte di britany ma non era stato preso particolarmente in considerazione questo fino alla morte di simon ovviamente dovete sapere che un'esposizione prolungata alla muffa soprattutto ad alcuni tipi di muffa può provocare gravissimi danni al nostro organismo come per esempio malattie respiratorie e addirittura polmonite ma nessuna ispezione ha mai rilevato la presenza di muffa in casa marfi né tantomeno l'autopsia l'ha rilevata perché se la polmonite di britany o di simon fosse stata causata da della muffa spiega il medico legale dall'autopsia sarebbe emerso perché si sarebbero viste chiaramente le piccole spore della muffa nei polmoni cosa che invece non era presente né nei polmoni di britany né in quelli di simon quindi questa teoria di cui si è parlato in lungo e in largo è una balla cioè nel senso è stata formulata ma non ha portato a nulla è falsa ad un certo punto amici sbuca dal nulla questo caso è pieno di colpi di scena sapete chi il padre di britany ve lo ricordate angelo bertolotti angelo bertolotti viene fuori dopo la morte di sua figlia di britany convinto che appunto sua figlia sia stata uccisa da qualcuno angelo sostiene che britany sia stata avvelenata e lo dice in vari programmi tv cioè lui è proprio convinto di questa cosa bertolotti fa eseguire delle analisi approfondite sulla morte della figlia deciso di mostrare la sua teoria e scopre che molte persone che muoiono a causa di una brutta anemia sono in realtà state avvelenate con l'arsenico scopre anche che nessuno aveva eseguito l'analisi del capello su britany per rilevare la presenza di sostanze tossiche e così presenta un'istanza per ottenere un campione di capelli della figlia per farlo analizzare da un laboratorio indipendente in colorado e ottiene l'autorizzazione a procedere i risultati sono sorprendenti infatti vengono rilevati livelli altissimi di metalli pesanti e pensandoci bene britany prima di morire aveva avvertito tutti i sintomi dell'avvelenamento giramento di testa crampi allo stomaco nausea vomito alcune di quelle sostanze trovate nei suoi capelli erano solitamente presenti all'interno di veleni come per esempio il veleno per topi niente per angelo bertolotti il puzzle è completo per lui era stata proprio sharon ad avvelenare prima britany e poi simon peccato amici che in seguito viene fuori che nei capelli di britany c'erano sì metalli pesanti veleni eccetera ma erano presenti solo nella lunghezza del capello e non nel bulbo e se non erano presenti nel bulbo significava che non erano mai stati presenti nel suo organismo cioè i capelli di britany presentavano tracce di metalli pesanti veleni solo perché britany si tingeva i capelli ma insomma non essendoci queste tracce nel bulbo l'ipotesi dell'avvelenamento non aveva nessun senso britany non era stata avvelenata ad oggi sharon murphy ha venduto la casa di britany la casa in cui viveva e adesso vive una vita nell'ombra cioè non si sa dove sia che cosa faccia non si sa più nulla di lei questo caso amici è davvero assurdo e credo che siano davvero tante le domande a cui non è mai stata data risposta personalmente non trovo sia normale che britany e simon siano morti entrambi in quella casa ed entrambi per le stesse identiche cause cause strane pur essendo persone così diverse e se fosse stato un problema di muffa o comunque un problema relativo alla casa al posto in cui vivevano allora perché questa cosa non ha colpito anche sharon che era praticamente sempre con loro sono molte le persone che ad oggi pensano che sia stata proprio sharon a togliere la vita a britany e a simon ma ovviamente questa insomma rimane una congettura rimangono speculazioni c'è chi pensa invece che siano stati presi di mira da qualcuno che li ha fatti fuori in qualche modo nello stesso modo ma chi cosa dove perché cioè non non ci sono in realtà elementi che supportano questa questa ipotesi io sinceramente non sono riuscita a farmi un'idea l'unica cosa di cui sono abbastanza convinta è che se britany non avesse mai incontrato simon a quest'ora sarebbe ancora viva penso che l'abbia uccisa lui con le sue mani no non lo penso ovviamente ma penso che sia morta in seguito alle sue azioni penso che il muro che lui le ha costruito attorno il modo in cui l'ha isolata e allontanata dai suoi affetti abbia contribuito alla sua morte penso che il notare il suo malessere e il rifiutarsi di portarla dal dottore abbia contribuito alla sua morte quindi oddio tenendo questo in considerazione sì forse penso che l'abbia uccisa proprio lui indirettamente forse ma se spingi una persona giù per le scale e poi questa muore dopo settimane in ospedale in seguito alle ferite ricevute si può dire che sia stata uccisa dalla persona che l'ha buttata giù dalle scale credo di sì e questo è il modo in cui vedo la morte di britany murphy è stata vittima di un abile truffatore che come abbiamo visto ripeto anche in altri video come per esempio mi viene in mente quello sulla setta di nexium queste persone questi truffatori sono sono bravi cioè non importa che tu sia una persona intelligente colta sveglia queste persone sono brave a sedurti a convincerti che il bianco sia nero e la maggior parte delle volte amici ci riescono e britany murphy ne è una prova quindi per favore vi chiedo di essere gentili nei commenti alleniamo sempre l'empatia purtroppo io penso davvero che queste cose possano succedere a chiunque è l'unico modo per difendersi e essere consapevoli sono molto curiosa però di sapere che cosa ne pensiate voi amici conoscevate questo caso o comunque conoscevate tutti i dettagli su questo caso che cosa pensate sia successo scrivetemelo sotto nei commenti appena finito questo video io scenderò subito a leggerli e a chiacchierare con voi scrivendo perché come potete sentire non ho più voce e nel frattempo amici io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao